E Pino Giordano fa parte della nostra famiglia, cantiamo Napoli. Ciao Pino, buona serata. Come stai? Io sto bene, un po' infreddolita, va bene. Si sa, no? C'è quel detto, chi bello vuoi pare? Malada patria ovviamente, però comunque anche con il freddo noi ci difendiamo sempre, lo sai. Abbiamo l'estate dentro, l'inverno fuori. Con la nostra chiacchiera che non manca mai, con il nostro saper parlare. Esatto, esatto, esatto. Come stai? Io sto bene, in generale va bene, tutto bene, festività natalizia, spero, suppongo anche tu in famiglia. Sì, 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 benissimo, benissimo. Per fortuna abbiamo anche lavorato, 23-24, quindi sto in forma al 101%. Smaiante, lo vediamo. A proposito del tuo nuovo album, uscirà a breve, vero? Sì, 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 verso la fine di questo mese, diciamo così, verso la fine di gennaio uscirà questo nuovo lavoro discografico. Abbiamo preso cura nei minimi particolari, gli arrangiamenti curati dal grande Nino Danisi che gli mando un bacio, c'è una produzione Zeus Record che appunto mando un bacio per tutta la famiglia Barrucci da parte mia e ci sono tanti, tanti brani nuovi che poi a fine mese usciranno, ascolteranno in tanti. Quindi per il prossimo evento tu porterai proprio una canzone nuova di questo album, puoi anticiparci anche il titolo, come si firma? Se non due, no, non lo so, il titolo del disco stiamo, stiamo, ci stiamo lavorando su. È vero che deve uscire alla fine del mese, però questo è l'ultimo dei problemi. Ho capito, ho capito, giustamente ci vuoi comunque lasciare in attesa di questa suspense, questa attesa per le tue fans? Non dico attesa perché poi comunque è brutto rimanere in attesa di tante persone che aspettano questo disco. Però sono indeciso tra un... ci ho qualche titolo, però siamo un po' indecisi. Troviamo quello giusto, al limite colleghiamo un po' tutte le idee che ho per la testa e mandiamo subito, però vi assicuro che nella prossima edizione ci sarà questo nuovo lavoro discografico. Quindi sarà una scelta intelligente del nostro Pino Giordano. La canzone che porterai? Un pezzo del mio cuore, essa si era portato, ho scritto da Stefano Altamura che gli mando un mega bacione, non più un mio collega, un mio fratello e a raggiamenti sempre il mio Danisi Zeus Record. Perfetto, noi lasciamo i nostri amici con il nostro saluto, lo sappiamo fare, no? Sì, sì, sì. One, two, three... Cantiamo Napoli! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Amando da soli, chi mente ha il tuo cuore Tu dei giorni miei, ne hai fatto ciò che vuoi Passandolo su, tu i ricordi mi spiaditi In un'amanzi in un minuto, a viva che te E per il nuovo tempo, non ci resta niente Prendi un pezzo del mio cuore Portano con te, te ne si chiude già Portano in un'amore, che non sape me, non ti posso migliare Tanto non ho trovato, che te faccio bene come te voglio Prendi un'amore, che mi sono soffritto Portano con te, non voglio far male Non mi resta niente, ti ești badia de già E se fosse innamorata, tu mi s'aspetata Una appiccetata, una appiccetata E non ce vado sta male, manca ci una lagra Ma vede la tasta, prendi a pugni la mia anima E vai, vai via A notte me ne mi dico, d'indoscuro fa rumore Una voce rugoda, abitidremme ancora Ma non seguo più i tuoi passi Non posso morire Quando gli occhi miei cadono nei tuoi Prendi un pezzo del mio cuore Portano con te, te ne si chiude già Portano in un'amore, che non sape me, non ti posso migliare Portano con te, non voglio far male Ma non mi resta niente, ti ești badia de già E se fosse innamorata, tu mi s'aspetata Una appiccetata, una appiccetata E non ce vado sta male, manca ci una lagra E se fosse innamorata, tu mi s'aspetata Prendi a pugni la mia anima e vai via Prendi a pugni la mia anima e vai via Abbiamo ascoltato